Buongiorno, sono Lorenza Francesca Guarneri, sono un artista soncinese, un bellissimo borgo della provincia di Cremona. Sono un artista di arte contemporanea, dopo aver conseguito la maturità artistica ho sperimentato diverse tecniche nel corso degli anni, sono molto propensa alla sperimentazione e seguo molto il mio istinto. Ho iniziato a dipingere su diverse superfici ma ultimamente mi sto dedicando alla pittura su corpo, infatti da qui nasce il nome Il Corpo Sifatela. La mia ricerca di pittura su corpo non si basa solo sulla tecnica e sull'esecuzione finale ma anche sulla rappresentazione artistica, cercando di renderla unica. Cerco sempre di comunicare emozioni tramite la mia pittura, rappresentando anche contesti di vita quotidiana, basandomi su fatti storici o ispirandomi su tutto ciò che mi circonda. Cerco di rendere le mie performance molto suggestive con musiche e movenze armoniose. Il corpo diventa strumento di comunicazione ma senza mettere il corpo come oggetto di attrazione. Mi piacerebbe che l'arte sul corpo venga vista con l'ottica di un concetto palpabile, percettibile e che duri nel tempo. Con grande piacere parteciperò alla mostra internazionale ecologicamente, un importante evento organizzato alla Comune di Parghelia a tutela dell'ambiente. Durante l'evento farò due performance di body art ispirate al tema dell'ambiente, un tema alla quale tengo particolarmente. Ci tengo a ringraziare l'amministrazione comunale del Comune di Parghelia e Giulio Pettinato, il Presidente del Centro Arte Blu Oltremare, che mi ha selezionato tra tanti artisti. Grazie a tutti, a presto! Grazie a tutti!